Un ragazzo separato dalla sua famiglia trovò un lupo separato dal suo branco. Insieme essi strinsero un legame che cambiò la storia dell'umanità. A dicembre assisterete all'incredibile racconto di come l'uomo ha scoperto il suo migliore amico. Alpha, un'amicizia forte come la vita. Dal 6 dicembre al cinema. Grazie a tutti.